ciao a tutti i cari amici benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale mostrami sagittario tendenze energetiche affettive per la seconda parte di dicembre 2022 wow la carta della stella nuovi obiettivi amici del sagittario idee illuminazioni mi verrebbe da dire la carta della stella è anche collegata ai sogni ai desideri ai sogni anche sia quelli ad occhi aperti che quelli ad occhi chiusi ai sogni in generale andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto voi prendete quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente segno lunare o venere sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi e sempre sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi partiamo da un fante di bastoni al contrario la carta del papa l'asso di spade e un otto di denari allora il fatto che il fante di bastoni sia il contrario può parlare di una persona che in questo momento magari diciamo non è proprio in una fase altruista può essere la vostra energia può essere l'energia di un'altra persona il punto è che manca una sorta di entusiasmo manca una sorta di di novità mi verrebbe da dire lo andiamo poi vedere con i miniter occhi perché comunque dopo c'è il papa il papa parla di o un contratto che può essere quello di matrimonio qualche tipo di accordo o qualche tipo di riconoscimento o ufficializzazione che qualcuno sta vivendo vivrà diciamo nella seconda parte del periodo nella seconda parte di dicembre quindi prima parte della lettura seconda parte del mese l'asso di spade è una comunicazione può fare riferimento a qualche tipo di dialogo di confronto che vorreste avere ed è da lì che probabilmente viene fuori il riconoscimento del papa e poi abbiamo noto di denari che parla di qualche cosa che riguarda la quotidianità quello che bisogna fare costantemente tutti i giorni che può essere anche visto come lavoro ma possono anche essere viste visto come le cose di casa diciamo le faccende normali andiamo avanti vediamo che cos'altro vi danno il mago quindi nuovi inizi se qui l'inizio si pensa si verbalizza ipotesi qua si fa un'azione di tipo concreto abbiamo un 4 di spade e un dieci di spade allora io qui ho la sensazione perché guardate il papa parla si di contratti e riconoscimenti ma parla è anche una figura di tipo spirituale è una guida spirituale è una persona che aiuta a prendere contatto con se stessi e qui ho come la sensazione che qualcuno si avvicinerà a quello che un percorso di guarigione perché il 4 di spade parla sempre di ritiro se vogliamo spirituale di prendersi un momento sia per ricaricarsi da un punto di vista fisico quindi energetico ma anche per ristabilire l'equilibrio da un punto di vista psico emotivo è considerato che parliamo di spade è molto facile che sia una riabilitazione da un punto di vista mentale c'è bisogno di chiudere un ciclo di sofferenza e vi sento ben determinati a iniziare questo nuovo percorso vi dico un nuovo percorso perché c'è il papa e ci sono queste due carte che indicano proprio la partecipazione a un seminario a un nuovo percorso di guarigione piuttosto che a leggere dei libri ok potrebbero anche semplicemente essere dei libri delle informa dei non lo so magari dei canali di youtube che iniziate ad ascoltare che vi ispirano che vi fanno pensare che vi fanno evolvere fondamentalmente andiamo a vedere con i mini tarocchi così vi dico qualche cosa in più video delle informazioni più precise per chi non lo sapesse intanto vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio 2023 è un corso intermedio e se siete interessati trovate il link sempre qui sotto nella descrizione del video al video che ho fatto che spiega il programma e le modalità di svolgimento del corso andiamo a vedere il principe di bastoni 4 di bastoni e la sacerdotessa c'è qualche tipo di attaccamento potrebbe essere a un ideale ho un'idea andiamo a vedere il papa sette di bastoni al contrario e due di pentacoli ho l'impressione che qualcuno qui sia un po stanco di doversi sempre giustificare di di dover sempre rendere conto agli altri fondamentalmente perché il papa è la persona di colui che parla alle masse e qua vi sento stanchi di lottare fondamentalmente stanchi di gestire gli alti e i bassi stanchi di mediare ragazzi per qualcuno si tratta di un certo tipo di mediazione magari che state facendo tra voi e qualcun altro o tra due persone esterne perché comunque di pentacoli parla di una persona che cerca di tenere in equilibrio due situazioni quindi andiamo a vedere l'asso di spade cavaliere di bastoni al contrario e re di pentacoli sì c'è è come se si volesse intraprendere questo nuovo inizio questo movimento per andare verso questo re di pentacoli per andare verso una stabilità per andare verso una maggior concretezza la stabilità la sento perché qua abbiamo l'otto di pentacoli in centro lettura e si è come se aveste bisogno di di muovervi verso il ruolo che vorrete che volete rivestire andiamo a vedere questo 8 di denari 10 di bastoni e 7 di coppa entrambi al contrario c'è qualcosa inerente alla quotidianità al lavoro che in qualche modo e non vi permette di disfarvi di alcune responsabilità non vi permette di guardare al futuro non vi permette di volare in alto di sognare mi verrebbe da dire con quella stella andiamo a vedere l'alchimista cavaliere di coppe e 5 di bastoni qui ragazzi qualcuno farà movimento perché questo è un numero uno come arcano ed è proprio l'azione all'inizio e qui abbiamo qualcuno che probabilmente arriverà a farvi un'offerta potrebbe anche essere la stessa energia che vedevamo qui che magari all'inizio non si spostava ma qui c'è qualche tipo di compromesso mi verrebbe da dire perché 5 di bastoni in realtà una carta di lotto una carta di competitività di qualcuno che è molto competitivo per raggiungere i propri obiettivi e può essere che ci sia anche un offerto una proposta un avvicinamento da parte di qualcuno o da parte vostra verso qualcuno si per per andare avanti per trovare un compromesso in da dire andiamo a vedere il 4 di spade abbiamo la carta del mondo e la morte cambi 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 cambio di mentalità cambio di sede perché qualcuno giustamente come vi dicevo prima il 4 di spade la carta di ritiro spirituale quindi può anche essere che vi sia perché no fatevi una settimana magari in montagna se riuscite nelle vacanze di natale se avete insomma dei giorni di ferie perché qua c'è un viaggio con la carta del mondo e comunque sono due carte di forte cambio sono due guardate c'è la morte e 10 di spade che l'arcano minor della morte si va verso è un 11 cambi 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 insomma ragazzi si va verso la fine dell'anno rimanete aperti perché qua se ne vedranno delle belle si va verso la fine dell'anno con un nuovo tipo di approccio anche verso se stessi da dire devo vedere 10 di spade 4 di spade nuovamente e regina di spade quindi sì questo momento di ritiro spirituale vi servirà per mettere chiarezza mentale per essere determinati per capire che cosa c'è che non va e che dovete lasciarvi indietro che fondamentalmente questo 10 di bastoni ok perché sono le responsabilità che toccherebbero agli altri voi probabilmente siete in una fase dove state mediando tra due persone ripeto o due situazioni può anche essere che mediate tra tra voi e voi quello che vuole il cuore quello che vuole la mente insomma va bene andiamo a vedere per i single qualche parte in più vediamo qualche consiglio perché per i singola anche cambi 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 nuovi inizi proposte sogni ufficializzazioni quindi magari può essere se siete così agli inizi di una conoscenza con qualcuno può anche essere che diventi una relazione un po più seria andiamo a vedere fu sei di pentacoli 9 di coppe e 7 di guardate 7 di pentacoli al contrario equilibrio sogno compiuto fine dell'attesa generosità a pagamento ragazzi questa seconda parte di dicembre sarà molto 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 positiva per voi e poi vi dico qui c'è nell'aria un cavaliere di coppe c'è un nuovo inizio c'è un cambio magari conoscerete qualcuno proprio all'interno di questo percorso di questo ritiro spirituale non lo so il 4 di spade in questa raffigurazione ma anche nell'altra vi fa vedere di vi fa vedere l'angelo in tutte e due le figure e qui come se fossero le vetrate di una chiesa di un luogo sacro ecco perché si parla di un seminario di crescita spirituale e può anche essere che magari partecipando a questo seminario possiate conoscere la persona ma può anche essere visto che rappresenta la chiesa e che siamo in tema natalizio che faccia riferimento a chi ama partecipare alla novena natalizia ai cori natali cori gospel mi dicono anche non lo so è un qualche cosa che ha a che vedere con il vostro modo di vivere la spiritualità che non è la religione sono due cose separate però magari per passione vi piacciono i cori gospel partecipate a un concerto o qualche cosa di questo genere lì potrebbe essere che incontriate una persona molto interessante devo dire ok andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione che consigli vi posso dare anziché consigli vedano le carte 5 di bastoni ce l'avevamo già qui re di spade qui avevamo la regina cavaliere di coppia nuovamente qualcuno qualcuno verrà invitato a mangiare una frittura di pesce non chiedetemi perché mi arrivano questi messaggi mi arrivano io ve li dico lo so che sono strani allora cinque di bastoni re di spade e cavaliere di coppe tre di denari due di coppe e cavaliere di spade ragazzi mi sento andare dritti verso la meta è qui arriva una proposta per un progetto per un'unione per andare verso un'ufficializzazione se magari è già un po che frequentate questa persona si potrebbe andare al passo successivo della relazione con tutte queste carte di cambio perché no potrebbe anche essere una convivenza c'è da lottarsela un po all'inizio ma perché secondo me si parte da punti di vista un pochettino rigidi ok però comunque tutto sommato vi sento molto determinati per andare verso quello che è l'unione il fidanzamento questo compro il venirvi incontro e poi comunque c'è anche questo progetto comune che non è da sottovalutare c'è un tre di pentacoli è una proposta iniziare un qualche cosa di più grande di più è la proposta iniziare qualcosa insieme ok bene andiamo a vedere un ultimo oracolo avete le belle carte devo dire sì un ultimo oracolo per gli amici del sagittario ok allora la prima carta numero uno parla di mindfulness quindi del mantenersi focalizzati sull'obiettivo la carta della stella parla anche degli esercizi di visualizzazione della legge di attrazione di tutte quelle cose che si fanno con l'immaginazione ok parla di trovare diciamo così la quiete all'interno della propria testa poi qui abbiamo la carta numero 31 ed è una carta che vi dice che c'è molto di più sotto la superficie è una carta numero 31 ricorda un po l'iceberg e qui lo sento con il re di spade perché non ho mentre di spade a questo atteggiamento un po freddino un po calcolatore però vi dice anche che c'è qualcosa di cui non siete a conoscenza c'è qualcosa di profondo che deve ancora venire fuori qua potrebbe venire fuori vi dico e poi abbiamo wow carta numero 43 il tuo spirito eterno ma che bello e parla di intuizione sacra e qui avete il papa vi ricordo che il papa è colui che traduce i messaggi del cielo e parla di del sé superiore quindi anche la stella parla di canalizzazione è come se vi dicessero rimanete focalizzati su su voi stessi sul vostro obiettivo e come si dice aprite i padiglioni auricolari sapete usate gli amplificatori usate come si dice le le antenne per interpretare leggere vedere percepire tutti i messaggi che l'universo ti sta mandando in questo momento bellissime carte amici del sagittario spero che la lettura vi sia stata utile se volete supportare il mio canale potete mettere like potete iscrivervi condividere commentare lasciare una donazione ogni tipo di supporto per me è molto importante io ci tengo a farvi tanti 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 auguri di un buon natale spero che possiate trascorrerlo in armonia e in serenità con la vostra famiglia in abbondanza e insomma che possiate che possiate trascorrerlo bene io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao